No al cyberbullismo, secondo ciclo di incontri alla scuola Puglisi di Serra di Falco, i cui alunni hanno svolto un questionario di verifica. Va avanti il progetto voluto dal questore Filippo Nicastro, cyberbullismo, cyberstalking e pericoli del web. La questura dei Caltanissette e la direzione della scuola secondaria di primo grado Filippo Puglisi di Serra di Falco hanno concordato di svolgere un secondo ciclo di incontri dopo quelli svolti lo scorso anno con gli alunni di tutte le classi dell'istituto e con genitori e docenti al fine di educare al digitale giovani e famiglie. Con i nativi digitali che si sono trovati ad affrontare il mondo ad una velocità diversa, quella del web senza il necessario apporto educativo in questo campo, nelle giornate del 23, 27 ottobre e 3 novembre scorsi, l'ispettore superiore Salvatore Falzone dell'ufficio stampa della questura nissena ha discusso di come difendersi dal cyberbullismo, cyberstalking, pedopornografia, adescamenti in rete ed in generale di come difendere la propria privacy da un'opportuna intrusione esterna.